Pallannoto, Ortigia, abbraccia i tifosi, festa per lo storico terzo posto in Serie A1 e il ritorno in Champions. Una festa di sport, un momento per permettere alla prima squadra dell'Ortigia e Pallannoto, al suo straordinario gruppo di atleti, al suo eccezionale staff tecnico, di abbracciare i propri tifosi e celebrare una stagione difficile ma sportivamente straordinaria, conclusa con uno storico terzo posto in Serie A1 che vale il ritorno in Champions, con un altrettanto storico secondo posto in Coppa Italia. Domani pomeriggio alle 19.30 la piscina Caldarella di Siracusa all'Ortigia festeggerà in compagnia di due ospiti eccezionali, la leggendaria squadra dell'Equipe Orizzonte che ha appena vinto il ventidesimo scudetto di pallannoto femminile e la nuoto Catania che ha raggiunto una importante ed eroica salvezza nel campionato di Serie A1 maschile. Le tre squadre saranno premiate dalla società Ortigia e disputeranno una partita e esibizione a ranghi misti per una bellissima festa di pallannoto che rende onore alla stagione positiva vissuta dall'Ortigia, dall'Equipe Orizzonte ed il nuoto Catania. L'ingresso alla tribuna è libero. Grazie. 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 Grazie.